benvenuti tutti siamo a lunedì quattris lunedì 1, 2, 3, 4 non è sempre lunedì, ormai ho deciso che è sempre lunedì quindi sono questa filosofia di vita non mi aspetto più il martedì, il mercoledì, il giovedì perché per me è sempre lunedì questo è un quaderno, che c'ho scritto questo quaderno? in arabo ebraico-arabo che non affronteremo oggi pomeriggio o stasera sono ebraico-arabo un po' di cinesi particolarmente, no, queste sono lettere ebraiche che poi sono simili a quelle arabe queste arabe, questo è sempre scritto Allah, Allah, il Allah ma ma Allah, il Allah, il Allah vuol dire ma metterlo sapete che il Corano inizia la parola Allah e finisce con la parola, credo, popolo elettro non mi ricordo, dovrei riguardarlo però insomma, un po' c'è il Corano un testo piuttosto, perché il Corano non andrebbe letto ma recitato, come ora vuol dire recitazione ma non parleremo del Corano perché proprio l'argomento credo che si distanzi abbastanza dalla religione, ho visto un video di Gabriella Tupini sulle religioni naturalmente sulle religioni tutti potete avere le vostre idee io non sono talmente, vabbè, io secondo me se uno, finché uno rompe il coglione un altro può credere in quello che gli pare anche andare a dire alla gente no, ma tu sbagli ma perché gli vai a romper, cioè se uno la domenica piacerebbe andare in chiesa ma perché gli a romper cazzo ma io, te non ce vai perché siamo passati da un tempo quando appunto si bruciavano gli eredici se divesse una legge tipo del karma buddista si bruciavano gli eredici perché ovviamente non credeva non credeva, c'è un dado boom ovviamente è stato bruciato è stato bruciato c'era anche un po' le fiori però oggi si va a rompe nel senso, se uno non è religioso non è religioso, basta non credo che la chiesa cattolica non passi per casa la domenica avrai raccatti su un camioncino vai porti tutta a messa non mi sembra questo cioè vuoi dire ma quelli che credono ma che ti frega che ti importa ma credono in cose strane ma che ti frega che ti importa qual è il tuo problema io per esempio vado a messa tutte le domeniche non rompo coglione a nessuno ma neanche in parenti amici io ci vado perché ci devo andare io perché ho il mio bisogno spirituale poi gli altri fanno quel che vogliono quindi è una cosa mia nel senso, parliamo di zona vampira che non è un argomento proprio religiosissimo però c'entrano i vampiri quindi i crocifissi c'entrano insomma mutadis mutandis ma questo è Zagor 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 eccetera eccetera quindi no perché trovo sempre sia un po' polemiche boh non lo so anche polemizzare con la religione cristiana boh sì va bene non mi sembra che non mi sembra boh mi sembra che boh c'è Mephisto quindi poi ognuno fa quello che gli pare nel senso che qui appunto abbiamo gli adoratori di Satana vedete che poi tutto c'è un ciclo continuo cosmico carismatico carismatico e tutto torna zona vampira è il numero 5 che esce con la cosmo costa 4,50 euro 4,50 euro 4,90 sì 4,90 4,90 con un bonellide un po' caro nel senso costa come un bonellide sì come questo va bene la cosmo non è economica nel senso 4,90 beh secondo me non lo so dai diritti d'autore perché ovviamente le storie sono ovviamente di Barbieri e Rubino Ventura e disegni di Birago Balsano e Saverio Micheloni ora in realtà Zora la Vampira siamo al quinto numero dovrebbe finire probabilmente cioè in teoria finirebbe col sesto numero 6 mesi quindi metà anno li abbiamo passati con Zora sono 6 mesi cioè 5 mesi questo è il penultimo numero di Zora la Vampira naturalmente cosa la cosmo è indecisa probabilmente guarderà le vendite di questo numero per decidere se dopo il sesto continuare con Zora la Vampira oppure andare a Succhia io onestamente proseguirei se hanno diritti d'autore proseguirei con Zora la Vampira perché poi almeno uno avrebbe una collezione un pochino decente nel senso che io ovviamente ho i primi 6 numeri ma poi parto con Succhia cioè non lo so io pubblicherei interamente tutto Zora la Vampira però questa è la mia idea tanto non credo che siano centinaia di centinaia di numeri quindi si potrebbe fare una riedizione di Zora la Vampira in modo che non ce l'ha tutti eccetera eccetera siamo al numero 5 di Zora la Vampira quindi però siamo alla Cosmo e Libra io certo con vabbè Succhia perché alcune di queste storie sono state pubblicate in formato bonellide qualcuno mi ha detto che che anche Necron è stato pubblicato in formato bonellide scusate stavo guardando un video per sempre i soldi cioè i video italiani io non li leggo però te lo spiego perché non li leggo perché hanno questo tono masaniello oh calmo lo so stasera non basta ai calmi cioè vedi questi video si sticano si vabbè mant'è incazzato no ma a volte seguo seguo ora vabbè seguo che ho seguito non mi ricordo manco ogni volta li guardo però non li reggo più cioè non reggo questo questo tono italiano abbastanza 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 profetico eccetera eccetera se sono va bene va bene ora guardavo non mi ricordo più chi guardavo comunque tutti questi video politici ma perché voi incazzate ma tanto voglio dire cioè voi di noi la seconda guerra mondiale l'amo persa l'amo persa quindi siamo finiti sotto gli americani e c'è andata di lusso ma c'è andata a destra lusso perché potevamo finire sotto stati e certo gli americani dominano che ci hanno fatto la guerra per noi sono venuto a morire per la pasta e ceci no capito a me sembra ovvio ma ben cazzate che Mussolini che l'italiano ha fatto allora guerra e quindi poi state calmi non li rego questi video e poi sembra che con un video di youtube ma chi cambia ma chi 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 se davvero uno spera di cambiare la società italiana con i video di youtube mamma c'è dei problemi c'è dei problemi grossi naturalmente uno può dire perché voi pensate che comunque gli americani tanto brutti tanto brutti voi potete parlare male degli americani su youtube quindi che è un canale americano cioè voi provate a fare la stessa cosa a russia poi vediamo che succede ma non parleremo di tutto questo parliamo di zora a vampira zora a vampira che è arrivata al numero 5 quindi io se fossi a cosmo continuerei perché almeno il prossimo numero è amante di satra questa storia è ovvio si rispira si rispira si rispira di quando era questo numero eh ma vabbè i disegni sono c'è un numero più che sexy ovviamente si rispira ai vecchi film del terrore eh vedi questo chi non conosce se non conoscete questa andate a nascondere cioè che fanno vedi che stavano qui stavano le basi minime sindagali Vincent Price Roger Corman eh insomma so Vincent Price e Roger Corman sono le basi dei cinema dei b-movie dell'orrore degli anni sessanta ho questo numero infatti scita qui perché poi in realtà questa è del 5 e del 15 dicembre del 72 quindi avevo quattro anni a quattro anni io già leggevo Zorami ah ma compro in Zorami sì certo figlio caro perché mi entusiasta no va bene va bene no mi è venuto l'accento romanesco e quando sono stanco mi pia la calata sudica perché io appunto sono toscano ma toscano di poco perché poi di là sforo nel Lazio con Viterbo e poi Umbro quindi sono un trilingue come Ennio che era il trilingue ma questa è un'altra storia lasciamo a perdere no questo numero ovviamente è molto splatter nel senso il gobbo il mostro di Frankenstein che tagliuzza le donne per riportare in vita la moglie che diventa un mostro terrificante che ovviamente sbrane spezza tutti eccetera eccetera che è il cannibale il mostro cannibale che si mangia i cadaveri quindi siamo proprio nello splatter più splatter quindi in realtà Rubino Ventura e Barbieri in realtà avevano un po' anticipato lo splatter questo non è probabilmente un fumetto erotico sì c'è una scena sexy in zona vampira avrà incontrerà una Crowley il mando Alice Crowley cioè questo è il massice ma di che no dicevo incontrerà un seguace di satana quindi ci riallacciavo io posso tutto sembra un canale disgraziato però c'è tutto un po' disordine c'ho un mio disordine mentale che seguo accuratamente quindi in realtà rimanda a vecchi film di cui oggi si è perduto Trash ma di cui Barsi ci dà notizia era scusate temeno l'abobinare dopo il dottor Fibers che anche qui era un dottore che faceva esperimenti sui cadaveri il modello archetipico penso che sia ovvio sia Frankenstein solo che in questo caso c'è anche la moglie di Frankenstein che era un fine negli anni la moglie dei Franchi sarà del 35 di James Wall del 36 Sir Reginald che ha poi lo scienziato passo poi in realtà siamo negli anni 70 questo scienziato passo la battuta di Barbieri o Venturi è che appunto i trapianti di cuore in realtà poi tutto quello che è stato un po' ipotizzato per ruzzo e per scherzo in realtà oggi si applica perché i trapianti di cuore eccetera eccetera clonazioni eccetera eccetera siamo andati con tezzoro la vampira naturalmente questo è un fumetto abbastanza splatter quindi è ovvio e abbiamo la vampira contro Frankenstein insomma naturalmente Sir Reginald non assomiglia fisicamente molto a Vincent Price questa è il mostro la mostra la mostra che ovviamente non mangia la vampira perché essendo morta insomma i zombie qui mi ricorda un po' Lugo Luli Castello Lullà il Bob l'aiutante del dottore insomma che manda non era ancora uscito Frankenstein Junior che uscirebbe quando uscirebbe Frankenstein Junior Frankenstein Junior è un buon stagno Frankenstein Frankenstein no ma era già uscita dopo mi sembra non mi ricordo Frankenstein Junior del 70 no esce nel 74 Frankenstein Junior del 74 in realtà è però in concomitanza con Zora la vampira di questo numero quindi probabilmente bisognerebbe proprio vedere le date i mesi precisi quando esce nel 74 dicembre 15 dicembre del 74 questo esce e si incontrano vedi però 15 dicembre del 74 ah no del 72 quindi no 74 74 esce dopo Frankenstein Junior scusate la matematica non è un mio mestiere esce due anni dopo è buono perché c'è un'assonanza che questo esce il 15 dicembre del 72 e Frankenstein Junior il 15 dicembre del 74 forse il regista di Frankenstein Junior che era ovviamente coso di buonasera Mel Brooks ha visto era borato sicuramente Mel Brooks era abbonato a Zora la vampira secondo me era borato facciamo questa rivelazione sconcertante che turberà i suoni di tanti comettofili ovviamente voglio dire non è che io da ieri ho parlato di Necron Necron io però anche se è stato ristampato in formato Bonelli non è ristampa Necron un po' che non sarebbe male con le vecchie copertine quelle proprio della Barbieri eccetera non sarebbe male perché come hanno rifatto lo sconosciuto lo sconosciuto è stato ristampato mille volte non è che nessuno di noi aveva bisogno anche perché so quelle sei lì più quelle successive i due numeri appunto l'uomo Cisse Cicce Guevara full moon addendere addendere eccetera eccetera però le storie sconosciute sono pochissime quindi in realtà è un personaggio che si è spento nel giro di pochi numeri cioè Zona la Vampira è durata di più dello sconosciuto scusate ci sarà ci sarà anche un motivo perché Zona la Vampira è durata di più però anche ristampare Neko nel formatino da Edicola a Zozza degli anni 70 non sarebbe male per quel formato c'è un valdino di Zozzi che non ti vergognavi non diceva ma mi devi a Zona dai all'edicolante mi devi a Zona la Vampira dall'altro oggi il mio edicolante mi ha fatto anche perché ho lasciato il portafoglio a casa mi ha fatto anche credito ringrazio Piazza Repubblica Thunderwaffe ma questa è un'altra storia perché io la Cosmo mi devo fare una medaglia mi manca Morgan Ortiz è segura e Fan Fan che ovviamente è la controparte diciamo più meno vabbè naturalmente Fan non è l'unico pregio di Fan di Fun o Fan come si chiama di Fan è che i disegni sono di Crollo quindi l'unica cosa l'unico pregio di quella serie è quello lì poi naturalmente anche nel mondo del fumetto tante storie possono essere tranquillamente dimenticate Zona la Vampira non sono storie voglio dire che certo rimandano ai B-movie degli anni 60 70 anni 30 il mostro Frank che sta la cripta sì per certo ci sono un po' di donne di tetta al vento ma non sono niente di particolarmente mostruoso sì non la assumiamo sì forse un po' a Vincent Price ma non è che gli è venuta proprio molto bene alla Vincent Price naturalmente l'idea dell'amore eterno l'amore cioè sono dei temi a volte un po' quello che mi ci sono dei temi baironiani eccetera eccetera che vengono un po' ripresi in chiave cioè un romanticismo baironiano Daphmetto e De Dicola come questi eroi tipo Manfred eccetera eccetera di Byron non dice Byron tutta un'altra cosa e poi alla fine negli anni 70 siano rifulfati Ne Dicola anche perché ve la ricordate Mary Shelley era la boia del poeta Percy Shelley che era amico di Byron che morì a Viareggio un'uscita marittima eccetera D'Aufra eccetera all'epoca si poteva fare fece sulla spiaggia toscana una pira come un eroe omerico lo bruciarono cosa oggi arriverebbero credo gli agenti comunali avrebbero multato Byron nella moglie per spargimento di ceneri eccetera eccetera non lo so che fine abbia fatto ceneri di Shelley ora vorrei guardare so che viene bruciato con un eroe greco e numerico eccetera come Achilles quelle cose romantiche che andavano tanto nel romandicesimo tedesco degli anni dell'ottocento quando poi cippa ciappe cippa ciappe cippa ciappe che vi dico di Zona Vampira non farò un libro molto lungo sono un po' stanto perché per me è sempre lunedì io sono arrivato a questa conclusione che tutti i giorni è lunedì e dice quando arriva domenica è un lunedì mascherato da domenica secondo me anche la domenica lui dice a Giallo Parli la domenica è un lunedì mascherato da giorno festivo essendo sempre lunedì questa mia filosofia non mi aspetto nulla so che domani sarà ancora lunedì quindi sono cinque giorni che viene il lunedì preciso quindi a questo punto ho raggiunto un giorno farò il buddismo in romanesco spiegato in romanesco e quindi non vi incavalate tanto la politica ma questa gente che parla da youtube di politica internazionale come se ma chi ve se ma chi ve se in ciappa ma davvero ma davvero no va bene fate gli sfoghi ma sia di destra che di sinistra no ci sono dei giochi di potere che noi non abbiamo noi non possiamo noi dobbiamo solo ringraziare che abbiamo un po' di libertà di parola questo ci hanno dato gli americani che può sembrare tanta poca roba ma è tanta roba perché in Russia se dici che Putin c'ha i gorna però c'è stata una studentessa putiniana qui si trasferisce in Russia poi prendeci te in Russia good idea good idea va bene ognuno fa quello che gli pare ma io fate ognuno fa quello che gli pare no ma non contiamo scusate ma cosa volete contare ma pensate davvero per contare qualcosa bisognerebbe essere una stab bisogna avere un canale americano per tutto bisogna avere un canale inglese perché un canale italiano già non conto un cazzo a prescindere ma proprio così è un prescendimento quindi se voleste proprio influenzare il quinto potere come il film dovreste parlare in inglese e fare canale in inglese almeno in francese io il francese lo so ma non mi azzardo a fare dei video in francese perché mi massacrerebbero i francesi ho letto delle poesie in francese che non sono andate male poi legge una poesia un conto parlare non c'è la francese come parlare della filosofia e mi massacri i francesi mi troncano e poi non c'ho quella dizione però dicevo di zona vampira no ovviamente non vi dico che siano frammenti imprescindibili disegni comunque non sono male questi biancoscuri non sono ovviamente disegni fatti di fretta non sono disegni anche le forme di zona vampira i personaggi maschili tendono tutti a somigliarsi solo qualcuno hanno i baffi tra Frank e qui c'è una scena un po' sexy con la moglie cerca di di sedurlo il giovane amante di zona cioè ha la stessa faccia solo che questo c'è senza baffi questo c'è baffi ma sempre cioè i disegnatori non hanno naturalmente questi negli anni 70 erano fumetti proibiti perché trattavano il cannibalismo se ci pensate bene è uno dei più immensi tabù della società civile di alcune società civili di alcune società primitive non è un tabù perché c'è il cannibalismo rituale viene il sospetto che Longobardi ne praticassero qualche rito la storia di alboino che taglia la testa di di Conegondo mi sembra se Conegondo è il re dei il padre di Rosmundo che poi fa bene il craio insomma però tutti questi il cannibalismo è sempre visto rituale cioè viene praticato ritualmente in certi contesti cerimonie particolarmente precise anche i micenei avevano forme pare simili ma insomma eccetera eccetera il vampirismo rimane un'idea abbastanza arcaica antica che il sangue è la fonte prima dell'anima prima che esistesse l'anima esisteva il sangue cioè quando sui morti sulle tombe micenessi sgozzavano capretti e agnelli perché si credeva che il morto si nutrisse di sangue questa antica credenza la trovate nella neocchia di Omero in Odissea quando Omero Odisseo sgozza i capretti e gli agnelli neri e le anime dei defunti si abbevano al sangue degli agnelli che se ci pensate sono vampiri da tutto questo siamo arrivati da Omero a Zora la vampira ho fatto un salto quantistico notevole però tutto si torna tutto ci cerchio normalmente parlo di fumetti perché non ho vuoi parlare di naravanni non vuoi parlare di assaggio non lo vuoi perché non so mai che dire si potrei dire le solite cose ma tanto c'è c'è una sfizza di gente che le dice quindi andate da loro e vi daranno i loro pareri illuminati io non ho pareri illuminati su niente Zora la vampira mi piace perché mi ricorda c'è una cosa nostalgica in realtà mi rendo conto mentre il necro è veramente un capolavoro del fumetto quindi anche se lo ristampa un'altra volta in formato pochi ci potrebbe star tutto Zora la vampira è certamente un fumetto ormai invecchiato con il gobbo il gobbo qui ovviamente rimanga anche il creepy e la figura la faccia del gobbo rimanda ovviamente alla figura di anche il creepy che noi chiamiamo ziotibia ziotibia io non ho perso ziotibia anche il creepy sì creepy che era appunto le riviste perché appunto nelle riviste non specificatamente di fumetti come creepy si poteva disegnare fumetti un pochino meno asserraiati dal codice di perché ovviamente il fumetto pure è classico cioè la rivista solo di fumetti mentre queste riviste erano fumetti riviste che avevano all'interno dei fumetti ma non erano solamente riviste solo di fumetti e quindi potevano aggirare i codici di autoregolamentazione del fumetto che come tutti ben sappiamo era stampato in chiare note in tutti in tutti intorno ovviamente gente cannibale non ce ne sono perché c'era appunto questo qui il codice di autoregolamentazione e quindi le riviste le creepy eccetera di cui abbiamo parlato perché anche la Cosmo credo abbia ristampato un po' di tempo fa appunto anche il creepy eccetera si potevano fare ovviamente un po' di scene sexy ci sono la moglie che può fare appunto una financia che viene divorata insomma sì vabbè questa si chiama proprio una scena proprio splatter che più splatter non si può ovviamente a chi piace lo splatter quindi anticipando anche Dylan Dog e tutta sta roba qui sto andando le corse perché sono un po' stanco domattina devo riandare sempre domattina lunedì qualcuno dice che è venerdì ma secondo me è sempre lunedì lunedì è una maledizione secondo me lunedì è una maledizione dei mai secondo me siamo condannati a lunedì eterno mi ricorda un po' il volevo fare un video su Giordano Bruno perché è molto complicato per esempio se guardate i canali francesi non fanno molti video su Giordano Bruno perché è un filosofo di cui non si sa molto in realtà perché le opere molte opere sono di difficilissima trovazione le opere magiche i poemi latini non li trovate a giro insomma trovate qualche edizione così no questo è un po' non lo so qualche edizione così qualche edizione così ecco tipo questa della Burma insomma il candelaio ma poca roba nel senso in realtà le opere più impegnative di Bruno poi andrebbero visti i brugnani come Buvel francesi che un po' riassumono il pensiero di Bruno in opere un po' di Campanella ma so in realtà anche poi chi parla di Bruno Barbasofia ne parla uno dei pochissimi che ne ha coscienza è Ciliberto anche se io non sono molto d'accordo spesso con lui però Ciliberto che è allievo di Garenne ovvio che insomma quando parla di Bruno ha letto Pomponazzi ha letto un sacco di cose perché Bruno è difficile definirne anche come filosofo perché a volte è un magno non è un filosofo le due cose sì nel rinascimento a volte coincidono anche perché anche filosofi del rinascimento come Ficino io ho delle opere di Ficino ma sono in latino credo di difficilissima trovatura ecco non si trovano molto quindi anche per esempio quando vediamo i video francesi vediamo Sisho Penhauer vediamo Socher ma i filosofi italiani del Cinquecento ne parlano pochissimo i francesi perché essi stessi non saprebbero cosa dirne perché 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 questo invece era Michel Bilbao ha una traduzione filosofica che non credo sia una salvezza d'altro e Sean Schenz bellissimo libro qui ho dei miei disegni di tanti anni fa Leonardo da Vinci vagamente finto e va bene con questo passo e chiudo vi auguro la buona notte buona notte c'è stato a tutto scompagnere non è che c'è molto da dire su Zora Vampira ovviamente è un frumento degli anni settanta che si legge per nostalgia naturalmente appunto questa è una delle storie più splatte il prossimo numero ci sarà il sabba infernale ovviamente l'evocazione di sabba nel diavolo naturalmente il mito Vincent Price non si è quando citava Nevermore di Eden Allan Poe come lo citava lui Nevermore ma ragazzi perché lui era del sud degli Stati Uniti dove c'è un accento tipo Vincent Price parla come probabilmente parlava all'incirca Eden Allan Poe che veniva dal sud degli stati del sud e quindi aveva una dizione abbastanza anglosassone mentre John Wayne che parla tutto così insomma c'è più differenza tra Eden Allan Poe e John Wayne che sono tutti i due Stati Uniti anzi che tra Jedder Allan Poe e Bodele insomma questa sarebbe veramente un'altra storia entriamo nella letteratura di cui non c'entriamo e anzi io ne esco esco da questo video ma vado a cucarvi che domani è sempre lunedì e ricordatevi domani è sempre lunedì con questa mia massima filosofica che vi aprirà le porte di mondi sconosciuti passo e chiudo